Musica Era ospite per qualche giorno da alcuni amici, il sessantenne di origini rumene è trovato appeso con una corda al collo in un'abitazione di via Valperga a Sarassa questa mattina, domenica 12 novembre. Inutili tentativi di rianimarlo, dei sanitari della Croce Rossa di Castellamonte, giunti sul posto intorno alle 10.30 con i carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea e i carabinieri di Quornier. La scena trovata dagli inquirenti ha acceso il dubbio che non si fosse trattato di suicidio. Scattate subito le indagini. Durante la prima fase di sopralluogo sono stati ascoltati i vicini su eventuali rumori sentiti, allertato anche il sindaco Sergio Angelo Gelmini, giunto sul posto. Ora i carabinieri dovranno visionare le immagini delle videocamere di sorveglianza per determinare eventuali figure sospette nei pressi dell'abitazione. Grazie a tutti.